l'interno è un verso l'esterno Ciao ragazzi, grazie di essere con me oggi questo sarà un video non richiesto, non super richiesto, per super darci richiestissimo e che ho fatto tanto tempo fa in italiano e tanto tempo fa anche in spagnolo ed è un video di coccolo un po' la bambola, in particolare a conzature oggi le farò un po' makeover, andrò a dropparla leggermente e poi andrò a farle un'acconciatura per tenere un po' i capelli nel limite del possibile, nel senso che è un po' ballerina se vi piace questo tipo di video non dimenticatevi mai di leggere un bel mi piace e di lasciarmi anche un commento mi aiuta tanto 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 e sapete che leggo tutti sempre ok, cominciamo un po' con la cura del viso quindi portiamo i capelli indietro e di fare un po' con la cura da qui se fosse un po' con la cura del viso e se fosse una cura delle alte 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 La chatta mi piace proprio per il supporto perché questo bambolino non vi aiuterà nel corso di questo video per niente allora prima di tutto volevo applicarne una crema vedete che bello vedete che bello il topping ok fermina questa bambolina si chiama signorita l'avevo chiamata così, l'avevo chiesta in un bigno spagnolo appunto prima di mettere la crema però volevo fare un po' di braccio un sorriso qui soprattutto dovremmo farli veramente rilassati ok 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 Ora le 10 e mezza di sera, lei dorme in casa perchè è viziata, quindi mi fate salire, si comincia a spavare il pronotto. Nessun mento, son le occhi, son le occhi, son le occhi, son le occhi e il naso, son le fronte. poi per il viso applicarle un po' di terra da questa palette della solita che sapete che amo qui e dall'altra parte faccio la stessa cosa e poi ovviamente avendo messo la crema risulterà un po' incredibile ovviamente è più una cosa visuale che altro ecco qua, bellissimo adesso passiamo al blush sorridi quindi ne mettiamo un pochino qua questo blush è molto luminoso un po' di blush un pochino di illuminante qui e dall'altra parte adesso sugli occhi prendo un colore, il colore burro e poi ne vado qui sulla barbeca sull'altro ok e adesso prendiamo la terra andiamo a scurire letteralmente ok ok direi che ho finito di inferire su questa povera mamma quindi cominciamo con il parrucco e per tirare un po' ok 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 ci hanno? cominciamo facendo sempre di attrazione e ok 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 voi probabilmente saprete per la treccia alla francese quella dove tu metti una giocca sopra l'altra c'è un'altra treccia semplicissima quel concetto elettico che si chiama treccia landese che è il contrario quindi io metto una giocca sotto l'altra in questo modo in questo modo in questo modo otteniamo appunto una treccia che va verso l'interno e non verso l'esterno e questa treccia attaccata alla testa risulterà in rilievo cosa che mi piace tantissimo e questa si chiama treccia olandese o in inglese molto più famoso touch braid invece l'attrezzo che facciamo tutti gli soliti è l'attrezzola francese vedete che bella è allargata le trecce allargate sono sempre bellissime quindi voi potete già faccio una specie di fiore allora cominciamo ad attaccare la testa prendo appunto una giocca iniziale e l'umore d'acqua che sentite che spero non vi dia fastidio quindi il frigo che ho qui nella stanza e io l'ho staccato non so perchè faccio questo ok quindi abbiamo queste tre giocche quindi cominciamo a metterle una sotto l'altra in questo modo poi prima di rimetterla sotto quella di mezzo la uniamo hai i capelli attaccati alla testa e la mettiamo giù questo non è un tutorial quindi se non siete minimamente esperti probabilmente non capirete ma semplicemente una lingua natura giusto per farvi un tutorial ok il procedimento è sempre così molto semplice il procedimento è sempre così e mettiamo la giocca sotto e mettiamo la giocca sotto prendiamo la pelle dall'altra parte e uniamo e mettiamo la giocca sotto e uniamo tutto così 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 se decidere voi in base alle giocca se le volete più grandi più piccole se prendere più o meno capelli ogni volta allora arrivati a questo punto ciò che suggerisco io per il mio gusto assolutamente personale è allargare le sue amiche a me piacciono più larghe poi ognuno è libero di far quello che vuole prendi i capelli ormai da sotto e unisco e unisco manca l'ultima giocca sotto e la unisco definitivamente e qui vi faccio vedere la trezza laterale e qui vi faccio vedere la trezza laterale ok 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 ho anche sbagliato non sono molto comoda ok lo semplicemente allargate colto così è molto carino semplicemente qui andate a usare andate a usare delle pinzette questa è una specie di rosa molto semplice oppure si può mantenere sciolta oppure a me piacciono i piccolini o la resta è una semplice ma dipende molto da voi da cosa vi piace e spero davvero che questo video vi sia piaciuto vi abbia rilassato perché me l'avete richiesto non so quante infinite volte purtroppo devono essere messa con voi non è proprio il video più comodo da girare assolutamente perché come vedete la pampa non sta mai ferma quindi se vi piace questo tipo di video vi guardate per l'infinito vi guardate per l'infinito adesso continuo adesso continuo un po' a toccare i capelli qui mentre vi do il mio stomaco lato avanti vici vieni è giunta l'ora di abbassare l'errore e augurarvi una buonanotte scusate per il casino che fa il frigorifero non ha mai fatto questo casino purtroppo il mio tempo per girare i video è alquanto limitato in questo periodo quindi ora o mai più buonanotte 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 buonas noti buonanotte 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 spero stiate passando un po' di noi vi auguro di passarlo dedicando il più tempo possibile le cose che vi piacciono vi auguro questo buonanotte un bacione che li spero buonanotte buonanotte buonanotte